E' stato sotto le stelle 2016, oltre 27 appuntamenti tra musica, teatro, ballo, performance artistiche, sfilate di moda, cinema all'aperto e festa per i giovani. Inizia questa grande esperienza di sinergia tra due municipalità, quella della città di Stavarsano con il comune di Ciavera e Santa Croce, due realtà che si uniscono soprattutto con le proprie eccellenze, una collaborazione tra le nostre proloquo, ma con l'arena di Montemerlo, con quella che è la piccola città, con le realtà che sono delle due nostre comunità, in due location straordinarie per storia, per romanticismo, ma anche per tanta cultura. In un progetto che è quello di Reteventi, che come nuova provincia stiamo portando avanti con forza da tanti anni, che sta funzionando molto, che sta portando eventi di cultura, storia, arte, racconti, cinema, in tutto il territorio padovano e credo che sia davvero un connubio speciale perché in molti casi come questo, non solo è un'estate da vivere ricca di culture e di eventi, ma anche un'opportunità perché dietro a questa progettualità ci sono realtà che danno opportunità di lavoro, danno opportunità di reinserimento, opportunità di occupazione e quindi divertimento, cultura, romanticismo, storia, ma anche lavoro. Io mi auguro che questo sia, come ho detto in conferenza stampa, che sia un inizio, non solo a livello culturale, ma che si vada oltre, perché oramai tutte le amministrazioni non possono più, diciamo, correre da sole. Dobbiamo trovare questi spazi, queste intese. Io spero che tutti ne prendano atto e che prendano il calendario in mano e sicuramente guardino perché all'interno di questo calendario è stato steso un programma eccezionale. Oltre 27 eventi tra danza, musica, teatro, teatro anche per i bambini, cinema all'aperto. Quest'anno veramente spaziamo un po' su tutti i fronti e ci auguriamo per tutti i cittadini un'estate veramente intensa, fatta di incontri, fatta anche di belle cose da vedere, da ascoltare, da gustare, perché no, anche da provare, visto che avremo tango argentino, avremo flamenco, avremo danza del ventre, avremo tante risposte a tante, speriamo, esigenze. E quindi vi aspettiamo tutti all'Arena di Montemerlo, al Parco di Villa Cesarotti e alla Barchessa di Villa Cesarotti per un'estate veramente magnifica sotto le stelle. In due luoghi di grandissima suggestione abbiamo l'Arena di Montemerlo e il Parco della Villa Cesarotti di Selvazzano, per cui due location veramente uniche, che offriranno un cartellone di spettacoli di alto livello. Selvazzano è già iniziato, noi iniziamo il 25 di giugno con uno spettacolo di rilievo e andiamo avanti per tutta l'estate e finiamo il 3 settembre, per cui aspettiamo tutti quanti, sia all'Arena ovviamente, ma anche al Parco di Villa Cesarotti.